Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Angelo e oggi siamo tornati su Minecraft Ragazzi, vi tengo a precisare solamente delle tre cose molto veloci Ragazzi, porterò delle live su Fortnite, quindi seguitemi anche là E se oggi raggiungiamo i tre like, ragazzi vi giuro che porterò il mio primo video Con la facecam, quindi spolliciate per vedere la mia vera faccia Ragazzi, oggi è il quarto episodio della vanilla Minecraft da solo Quindi ragazzi, vi ringrazio e supportatevi ancora per questa live Ragazzi, il progetto di oggi della casa, per migliorare la casa, era di ampliare la casa di un blocco Perché ho visto che quando salivo, certe volte che salivo, certe volte cadevo Facevo sempre certe volte così e mi facevo male Però adesso dovrei, come dire, riuscire a fare, ad ampliare di più la casa Perché ho preso delle staccionate in più e qualche blocco Quindi ragazzi, mettiamoci al lavoro Rimbocchiamoci le maniche E dai, con il pollicione in su Ok ragazzi, mettiamo questo Per adesso facciamo tipo una base Ok E ora dobbiamo rialzare così Ok Fino ad arrivare a qua Tipo qua è meno di uno Meno di uno E meno di uno Ok ragazzi, ora iniziamo con le staccionate Dobbiamo fare Fino ad arrivare lì sopra Tanto è una piccolissima scaletta Quindi qua Qua E questi qua Anche qui li sto mettendo Perché certe volte mi salta da solo C'è l'autogjump Perché sempre a premere questo Non voglio Ok, scendiamo Ok, guardate che bella E già Qui Stiamo facendo un pochettino di lavoro Però ragazzi Mi sa che è troppo bassa Rialziamola di uno, dai Ragazzi, rialziamola Ok Ah, ma qua Ah, non giusto Qui no Ok Facciamo qua Questo qua Pulciccio pasticcio Vai qua E rialziamo anche qui Questo qua Ok Perfetto ragazzi Guardate Guardate ragazzi Che bella Ragazzi È venuta bene Per essere Il quarto video E della vanilla da sola È venuta veramente bene E si sta facendo sera Quindi ok Ragazzi Che vi devo dire Siete mitici Ragazzi Vi ringrazio veramente Per questo Traguardo Che mi state dando Noi facciamo Noi facciamo Tipo una specie Di dialetto Un'altra specie Di dialetto Dobbiamo togliere Tutto Dovrei farmi Una pala Eh si Devo farmi Una pala E anche Riparare Riparare Questi Questi Armo Ventari Ok ragazzi Ok Guardate Mamma mia Ma che Bella Mi è veramente Venuta bene Per essere Solamente Il quarto Episodio Della vanilla Ok ragazzi Per oggi è tutto Ragazzi Vi saluto Iscrivetevi Al mio canale Per non perdervi Nessuna Cioè Ho sbagliato Tantissimo Ragazzi Iscrivetevi Al mio canale E attivate La campanellina Per non perdervi Nessun video E ragazzi Lasciate like E Arrivati a tre like Ragazzi Vi porterò Questo Finalmente Questo video Con la facecam Ragazzi È veramente Veramente Speciale Per me Che già siamo arrivati Alla quinto episodio Della Cioè Questo è il quarto Però Se noi arriviamo A tre like Ragazzi Vi porterò Il quinto episodio Più La facecam Quindi ragazzi Io mi vado A coricare Ragazzi Vi saluto E appena Ok Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi